Mi alzo al mattino perché mi piace quello che faccio. Ho una famiglia, ho un bambino che ha 9 anni, ho la responsabilità di un numero di persone che lavorano per me, che contano sul fatto che noi facciamo un buon lavoro. Quindi questo mi dà lo stimolo e la forza anche le mattine in cui magari non hai tanta voglia perché hai più problemi da risolvere di quante sono le soddisfazioni che porti a casa, comunque devi tenere duro. Vicino a te hai tante persone che sono nell'atmosfera familiare o fuori. E molti contano su di te. Quindi questo è quello che mi porta avanti, il termine responsabilità è quello giusto. Arrivo da un'esperienza di ricerca e sviluppo, quindi lavoravo in California e facevo modificazioni genetiche. Poi l'azienda di famiglia cresceva e quindi sono arrivato qua. In realtà forse il mio progetto iniziale era quello di continuare a fare ricerca. Ho continuato a fare ricerca nell'azienda di famiglia. Poi avevo un progetto di smettere di lavorare a 50 anni e ritirarmi da qualche parte per la mia grande passione che è la vela. ne ho 53, quindi vuol dire che sono almeno 3 anni in ritardo. Ma è che le cose nella vita cambiano, quindi i tuoi progetti e le tue prospettive che hai a 25 anni, a 30 anni, uno deve dimenticarsele quando hai 50 perché devi riazzerare e rivedere quali sono le priorità. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.